Allora, ci sono persone che hanno seri dubbi sulla propria personalità e la propria sessualità E lui è uno di questi? Eccolo qui, benvenuto, chi sei? Finsoli Enzo E Enzo, per questa sera Enzina mi dicevano No, 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 sono ancora la vecchia Ah, ok, tu sei classico ancora, ok Ah, ok, quindi è tutto finto, è tutto finto, è tutto finto È tutto un gioco di quei due bastardi qua Ah, addirittura, beh, li vuoi bene, li vuoi bene Ma tu hai mai... Tutti, tutti, colpa di tutti Occhio che ha la sorpresa Eh, certo, tu hai mai pensato a un tuo ipotetico mondo da donna? No No, mai No, ma al di là di quello, non per quello, nel senso Tu hai mai pensato a essere donna? No, 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 no La tua maschitudine Sì, 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 vedi, che sono loro che mi toccano Ma te fa schifo? Eh, adesso stasera ci sta arrivando Ah, io non piace Stasera ci sta, però, ferma, schifo No, no, comunque, uomo, uomo, sempre, gli piace la patata Sempre e comunque, certo Sempre e comunque, va bene Allora, manda un messaggio a tutte le donne per dimostrare la tua masqualdità Hanno un messaggio alla mia futura moglie Sì, elegante, elegante, mi raccomando Ti l'amo tantissimo e non vedo l'ora che arriva quel giorno Ho fatto prossimo, 9 settembre 2017 Ah, ci siamo Tanto Ci siamo, ci siamo Ma lei si vergognerebbe a vederti così? Non lo so, per me riderebbe, è come una malta Ah, riderebbe Meglio, meglio Ti sto divertendo È una bella cosa, è una bella cosa, va bene Allora, un saluto a tutti i telespettatori della nostra Web TV al convento e a presto, in bocca a lui E torneremo ancora, perché al prossimo giorno c'è arrivato, toccherà a lui A lui, a lui, torneremo presto Io intanto saluto con la mano di fianco Il prossimo giorno c'è arrivato per noi Non so cosa ti aspetta Ti aspettiamo, ti aspettiamo Sono qua, promesso Ok, già prenotato Però non vestito così No, assolutamente no Meno male Sarà un figurino per me Meno male, meno male, va bene Ciao a tutti, ciao 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 a tutti Ciao a tutti